Musica Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno cari telespettatori di Fano TV in diretta alle 7.30 di oggi lunedì Siamo qui per leggere i quotidiani che come al solito troverete in versione cartacea nelle vostre edicole di fiducia Questa mattina abbiamo il resto del Carlino ed il messaggero, il Corriere Adriatico, aveva delle difficoltà nella versione in PDF Come al solito cominciamo dal Santo del giorno, oggi ricordiamo i Santi Timoteo e Tito Il sole è sorto alle 7.31 e tramuterà alle 17.09 Subito il tempo con i dati in diretta del nostro osservatorio meteorologico Sono 7 gradi 7.4, 58% è la umidità e la velocità del vento è di 24 km orari Questa è la situazione con l'immagine di una città, quella di Fano, vedete ripresa dalla webcam La quale potete accedere dal nostro sito internet occhialanotizia.it Dicevo telecamera che ci mostra una città che si sveglia sotto le nuvole Andiamo a vedere adesso le previsioni del tempo con la grafica della protezione civile delle marche Che per oggi prevede cielo parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone interne A prevalenza di schierite nel pomeriggio Precipitazioni deboli sparse in particolare nelle zone interne Deboli locali altrove con progressivo esaurimento dei fenomeni nella seconda parte della giornata Il limite delle nevicate è attorno ai 400-500 metri Temperature stazionari o in lieve a diminuzione Eventi in nord orientale, il mare sarà molto mosso per domani Martedì 27 gennaio avremo cielo poco o parzialmente nuvoloso Con cielo sereno nel pomeriggio Temperature in aumento, eventi di brezza tesa Probabile miglioramento per la parte centrale della settimana Indicazioni di un ulteriore peggioramento invece per il fine settimana Allora cominciamo a leggere i quotidiani Andiamo subito sul resto del Carlino Ieri pomeriggio i siti internet di informazione locale hanno battuto quella notizia drammatica Che arrivava da Orciano di Pesaro La morte di un bambino di 10 anni colpito da una meningite fulminante Lo ha ucciso nel giro di poche ore Questo episodio drammatico di cronaca Viene raccontato questa mattina da tutti e tre i quotidiani Allora cominciamo dal resto del Carlino Bimbo fulminato da meningite Profilassi per quasi 100 persone La sala consigliare di Orciano Trasformata in un pronto soccorso Per tutta la giornata di sabato Il piccolo non aveva avuto sintomi Del temibile batterio Tutta l'Asur è stata mobilitata Con farmaci Per tutte queste persone Appunto un centinaio Che avevano avuto contatti certi E prolungati con il bambino Bambino che si chiamava Francesco Aveva 10 anni Era figlio unico E' morto improvvisamente ieri mattina Per una meningite fulminante Abitava a Orciano Insieme alla mamma Roberta E al papà Gianluca Il sindaco del paese di Orciano Dice siamo sotto shock Per questa tragedia Mobilitazione per rintracciare I compagni di scuola E anche quella di giochi In questa immagine Vedete la sala consigliare Piena di gente E poi anche la foto Di questo splendido bambino Che appunto Si chiama Francesco Andiamo sulla pagina invece Del messaggero Sospetta meningite Muore un bimbo di 10 anni Scattate le procedure di profilassi Per tutti i possibili contatti Scrive il quotidiano Un crollo improvviso Febbre e vomito Poi la corsa all'ospedale di Fano Senza speranza Francesco Questo bambino di 10 anni di Orciano E' morto per una sospetta meningite fulminante Sono scattate ovviamente Tutte le procedure sanitarie Per la meningite La direzione medica Dell'ospedale di Fano E il dipartimento di prevenzione Dell'area Vasta 1 Hanno richiamato Il personale in servizio Per l'emergenza C'è stata tutta la profilassi Ovviamente Ieri Ieri ci sono state Come è comprensibile Anche momenti di tensione Momenti di panico Soprattutto Di gente che ha voluto A tutti i costi Prendere questo Questa pasticco Questo sciroppo Insomma Perché temeva Di essere Di essere In qualche modo Poi In A rischio Poi Ieri in realtà Ecco La nota diramata Dalla Dalla direzione sanitaria Insomma Che cercava di Tranquillizzare Tutte quelle persone Che in qualche modo Hanno avuto Un contatto Hanno frequentato Gli ambienti Dove è stato Il piccolo Francesco Comunque Per saperne di più Oggi a mezzogiorno Salvo cambi Di programma Trasmetteremo In diretta La conferenza stampa Che la Direzione sanitaria Ha in programma Qui a Fano E quindi Vi daremo Tutti i dettagli Ma soprattutto Per tranquillizzare Insomma Le persone Le persone Che appunto Ieri Erano Anche Comprensibilmente Agitate Allora Le altre notizie Sui giornali Il mare Il mare Sottomonte Ha restituito Un altro corpo Tra peso Le Fano Un altro corpo Sulla spiaggia Sottomonte Ai bagni Margherita Era irriconoscibile Ma aveva i documenti Si tratta Del cuoco turco Di una nave Di una nave Che Ha avuto Ha avuto Si è scontrata Con un'altra Con un'altra nave Qualche settimana fa Uno di questi Quattro marinai Turchi Dispersi dal 28 Dicembre Quindi quasi un mese fa A largo del porto Di Ravenna Dopo una collisione Tra due Navi È stato rinvenuto Ieri mattina Sulla spiaggia di Pesaro Il corpo È straziato Quasi irriconoscibile Dopo essere rimasto Un mese In acqua Aveva In mare Aveva addosso Comunque documenti Di identità Il ritrovamento È avvenuto Alle 8 del mattino All'altezza De Magni Margherita Sottomonte E si tratta Del cuoco di bordo Della motonave Turca Gokbel Le altre notizie Ancora Dal resto del carino Questa mattina Si parla Della Ferrovia Fano Urbino Il Quirinale Napolitano Ha detto No Anche Il Quirinale Non vuole La riapertura Del treno Insomma Della ferrovia Del tratto ferroviario Fano Urbino Il 3 novembre scorso Si è avuta copia Del provenimento Solo qualche giorno fa Il Presidente Giorgio Napolitano Ha firmato Un decreto Che dichiara Inammissibili Ricorsi presentati Dall'Associazione Ferrovia Valle del Metauro Contro le delibere Di dismissione Della tratta ferroviaria Il Direttore Della Merano Malles Svela Svela i loro costi E sono cifre importanti Perché dice Servono 13 milioni L'anno E ancora Dal resto Del carlino Le cipolle Le cipolle Promettono Meno pioggia La maestra Emanuela Forlini Ha ripetuto Il tradizionale rito Tramandatole Dal nonno L'auspicio Della signora Che tutti Colgano il senso Di questa Usanza Popolare Infatti con questo spirito Che ripeto Non ha niente Questo rituale Così Non ha Nulla di Né di magico Né di scientifico Si tratta semplicemente Di una tradizione Che questa Signora Che noi conosciamo bene Insomma Vuole Ripetere Ogni anno Così anche un po' Per In ricordo Del papà Che gliel'ha tramandata Come tradizione Ecco qui quindi Per i curiosi Il quadro Di tutto L'anno 2015 Dal punto di vista Meteorologico Lo vedete anche dai simboli Ecco spostiamo dicembre Forse che è coperto dal logo Ecco qua Dicembre avremo giornate serene Con temperature fredde E gelate Il calcio Con Con il Fano Che è stato beffato All'ultimo minuto Perché Al 44 43 Eravamo In testa Con Una rete a zero Contro il Giulianova E in classifica Eravamo messi benissimo Addirittura Eravamo secondi A un punto Dalla prima in classifica Poi abbiamo preso Un gol All'ultimo minuto Quindi pareggiando Uno ad uno E anche la classifica È improvvisamente cambiata Perché poi La maceratese Anche lei Ha vinto Stava pareggiando Ha vinto All'ultimo minuto Insomma Al 44 Eravamo secondi Eravamo secondi A un punto Poi siamo rimasti Secondi Ma a sei punti Di distanza Perché poi La maceratese Ha vinto Quindi È volata Ancora più in alto Ma insomma Diciamo È stata una partita Bella Sembra a vedere Dalle maglie Dalle maglie Dei giocatori Dalla divisa Dei giocatori Sembra quasi Una partita Di rugby Piuttosto che Una partita Di calcio Ma ieri Pioveva È piovuto tanto Era freddo A Giulianova E il campo Era praticamente Impraticabile Ma insomma È stata Tutto sommato Una buona partita Il mister Alessandri Dice Peccato Sarebbero stati Tre punti d'oro È vero Il DS Canestrari Torniamo a casa Con maggiore consapevolezza Nei nostri mezzi Poi domenica C'è una pausa Quindi domenica C'è una pausa Del campionato Rimarremo Fermi Si riprenderà In casa Con una partitoria Una partitona straordinaria Una partitona Con la San Benedettese Insomma Un'altra di quelle Da 3-4 mila persone Allo stadio Allora andiamo E chiudiamo La nostra segna stampa Con il messaggero La prima pagina Si occupa di politica Regione Marche 2020 In corsa Solazzi Il PD Ha escluso il centro Ha frantumato l'asse Che ha governato Negli ultimi dieci anni Alle elezioni Una lista Che non parte Dalle sigle Ma dai contenuti Appuntamento a Roma Poi i drudi I drudi Della Camera di Commercio Di Pesaro Che chiede alle banche Di allentare la stretta Sui prestiti Il tema del credito È nell'agenda Del prefetto Della Camera di Commercio I tagli preoccupano I tagli preoccupano Perché meno aziende Potranno avere assistenza Sta parlando Drudi evidentemente Dei tagli che ha coinvolto Anche il lente camerale Marotta contesa Tra i comitati Braccio di ferro Nonostante sia ormai Unificata sotto a Mondolfo Continuano le schermaglie Chiudiamo con Quest'altra pagina Anche qui Il ciclista scopre Sottomonte Il corpo di un disperso Era sulla spiaggia Si tratta di uno Dei marinai Convolti Nell'incidente Di Ravenna Nel tratto di mare Tra Pesore Fanno il secondo Recupero in quattro giorni Non si trova invece Il pescatore Di Gabice E ancora Altre notizie Che arrivano Da Pesaro Il comune Piano di lavoro Per 250 giovani L'assessore delle noci Lo presenterà Giovedì Alla Rossini Ma l'opposizione Solleva Dubbi Torniamo Sull'altra pagina L'ultima pagina Del messaggero Il superenalotto Premia La tavuglia Di Valentino Rossi Una persona Un fortunato giocatore Ha realizzato Una vincita Di 84 mila Errotti Euro È tutto Grazie per aver seguito La nostra rassegna stampa Vi ricordo stasera Alle 20 e 30 Il nostro Tg Occhio alla notizia Così come Il nostro portale Invece sempre aggiornato In tempo reale Il nostro sito internet Occhio alla notizia Punto it Dove troverete Tutte le ultime notizie E potrete seguire Anche la diretta Mezzogiorno Come dicevo Nel corso di questa Rassegna stampa Della conferenza stampa Della direzione sanitaria In merito Alla drammatica notizia Della morte Di quel bambino Di 10 anni Colpito dalla meningite Fulminante Tutto grazie E buona giornata E buona giornata Minha